Presidente, nuove divise, nuove maglie per una nuova stazione che si augura molto fortunata? Ma sì, abbiamo come lo slogan già della campagna di abbonamento e di rinnovamento della società, riprendiamoci la storia, così ci siamo ripresi un pezzo di storia con le nuove maglie che oggi sveleremo, quindi sono dei colori tradizionali, ma devo dire solamente che quest'anno ci siamo affidati a un'azienda italiana, un'azienda molto seria e famosa che veste parecchie società di serie A e di serie B, con le quali ci siamo trovati perfettamente in sintonia su tutto e sono orgoglioso quest'anno di aver concluso un accordo commerciale come partner e sponsor tecnico dell'RA che è qui oggi con noi, il titolare signor Gandolfi. Nasce una partnership importante che può essere longevole? Allora, innanzitutto io sono onorato di vivere questa partnership e poi una cosa che per me è stata straordinariamente importante è che è il Presidente che ci ha voluto e noi abbiamo accettato il suo invito, quindi con grande orgoglio veramente per noi è importante vivere questo progetto. Facciamo anche una domanda per quanto riguarda il ritiro, la squadra insomma da pochi giorni in ritiro a Pupio. Li abbiamo mandato al fresco, li abbiamo mandato al fresco. Chiaramente un gruppo che verrà ripostito a Pupio. No, no, sicuramente sì, ci verrà ripostito, ho notizie dell'ultima ora, oggi ci siamo sentiti con il direttore, procede tutto bene, le tappe che si era date a Otelli dei primi giorni, chiaramente stiamo parlando di due giorni, però si hanno già notato qualche giovane che stava facendo con noi già in serie di Rosa, quindi speriamo bene. Questi importanti arriveranno a breve? In parte ne sono già arrivati, perché non dimentichiamo che abbiamo già degli elementi molto importanti in Rosa che abbiamo acquistato quest'anno, mi riferisco a Satella, mi riferisco a Pambianchi, mi riferisco a Murano, a breve annunceremo pure qualche altro che è già aggregato, ma per motivi di ufficialità è bene che si firmi il contratto. Siamo lì, non ci fa paura nessuno, come ho detto l'altra volta oggi.